non sanno darsi pace i residenti di via san marco a lucrezia di cartoceto due morti sospette per avvelenamento di due gatti domestici ed un altro manca l'appello ma quello che fa inorridire di più i residenti è l'incomprensibile modalità di ritrovamento di uno dei due animali avvelenati oltre ad avere segni di una strana sostanza bluastra in bocca come l'altro gatto purtroppo morto di stenti è stato rinvenuto ricoperto di una polvere grigiastra probabilmente si tratta di cenere sparpagliata nel posto in cui è stato ritrovato e sul corpo anche della povera bestiola abbiamo scoperto dietro una fratta in un campo coperto di cenere e sempre con una sostanza colorata in bocca più o meno come l'altro gatto che era morto all'appello ne manca un altro che ancora non è tornato a casa si sospetta che abbia fatto una fine simile sì sospettiamo la stessa fine ormai se ne siamo più che certi il gatto non appartiene a me il gatto che apparteneva a me è quello che è stato ricoperto di cenere però più o meno siamo certi che sia la stessa fine questa via siamo tutti più o meno proprietari di cani gatti quindi questa cosa un po è strana perché sembra quasi fatto una persona che li odia in realtà non ci torna ecco ora ci dicono diversi residenti che hanno animali domestici ma che come tutti ogni tanto escono di casa per scorazzare liberi come loro natura adesso per la paura che qualcosa di brutto possa accadergli siamo costretti a segregarli in casa e non ci sentiamo più liberi chi e perché si chiedono ha fatto una cosa simile che fastidio davano due innocui gatti domestici che bisogno c'era di fargli fare una così brutta fine e intanto si aspetta e si spera che il terzo che manca l'appello nel giro di qualche settimana torni a casa sano e salvo il terzo che non ci sentiamo più a casa grazie 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 grazie